Farsi trovare pronti e conoscere la gestione del paziente da sottoporre a procedure invasive in urgenza e emergenza, essere in grado di interpretare l'elettrocardiogramma, apprendere i principi di radioprotezione. Sono solo alcuni degli obiettivi prefissati dall'incontro formativo rivolto agli infermieri che è stato organizzato a Trani presso la sala convegni dell'Università L'Hum-Jean-Monnet. Il corso è stato promosso in sinergia da CNAI-BAT, Ordine delle Professioni Infermieristiche della Sesta Provincia Pugliese e dall'Unità Operativa di Emodinamica dell'ASL-BAT. Ed è stato il dottor Francesco Bartolomucci a parlare di numeri positivi dell'Unità Operativa di Emodinamica dell'ASL-BAT, risultati importanti ottenuti anche grazie alle competenze e alla professionalità degli infermieri che svolgono un ruolo fondamentale in tutte le procedure mediche. Una struttura che è nata l'anno scorso e che sta consolidando ogni anno i suoi dati. Questo grazie alla collaborazione del personale medico, ma soprattutto del personale infermieristico e tecnico-radiologico che tutti insieme hanno permesso di raggiungere obiettivi veramente importanti. Tant'è vero che nel 2017-2018 siamo quindi al terzo posto e al secondo posto come numero di angioplastiche primarie dove per angioplastiche primarie si intende paziente che arriva dalla nostra unità operativa con infarto miocardico acuto che nell'arco di 90 minuti il paziente viene sottoposto ad angioplastica e quindi a risoluzione del problema coronarico. Ebbene, nel 2018 abbiamo fatto circa 250 angioplastiche primarie e siamo al secondo posto in Puglia come numero di procedure in emergenza. Oltre alla parte teorica il corso rivolto agli infermieri è stato arricchito anche con una lezione pratica con l'interpretazione dell'elettrocardiogramma. Un'interpretazione di quelli che sono i tracciati patologici che è una cosa molto importante sia per un medico che per un infermiere saper individuare quella che è una patologia che un elettrocardiogramma ci può rilevare al fine di indirizzare in maniera appropriata il paziente alle cure del caso. Abbiamo pensato di realizzare questo corso proprio per dare un senso concreto al ruolo della figura infermieristica nell'ambito del trattamento del paziente affetto da una patologia cardiologica che potrebbe compromettere seriamente la sua vita.